Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. E' stato attivato il Dipartimento di protezione delle scuole. Queste sono in diretta, vedete l'ATF, il New York Police Department, queste sono immagini invece che arrivano, che la nostra regia sta mandando, raccolte da testimoni oculari e state vedendo la fuoriuscita di fumo mentre le persone escono dai vagoni della metropolitana linea R perché l'uomo, il potenziale autore di questo atto, per ora non ancora attentato, nel senso che non sappiamo matrice, poco sappiamo, avrebbe usato dei lacrimogeni per distrarre e poi disperdere la folla. Io su questa...